Buonasera a tutti e invito subito qui con me per parlare un po' con voi ovviamente Gipi, Gian Alfonso Pacinotti il regista del film, Gero Arnone, Davide Barbafiera, Francesco Daniele e Domenico Procacci. Benvenuti a Venezia, dove volete? Intanto saluto e ringrazio anche tre delle attrici del film che sono qui presenti, cioè Anna Bellato, Kasia Smutniak e Jasmine Trinco. Allora ovviamente l'incontro è soprattutto aperto a voi, cioè se volete fare domande alzate la mano, io non vi vedo quindi spero che poi ci sia qualcuno che recepisce l'alzata di mano. Ci sono mani alzate? No, perfetto. Allora, no, ma è normale, la timidezza fa parte del gioco. Allora chiedo, intanto partendo da te, la domanda che si fa di solito in questo momento è come nasce l'idea del film, ma ce l'hai raccontato nel film. E quindi, perfetto. Allora ti volevo chiedere, tutta la tua arte, chiamiamola, dai fumetti al cinema, è qualcosa che ha a che fare con te? Cioè sembra che tu hai voglia di parlare del mondo attraverso il tuo dialo, la tua biografia? Si chiama narcisismo patologico, basta saperlo, lo limiti, fai meno danni quando lo sai. E però rispetto al narcisismo, tu in realtà parli di cose che succedono nel mondo? Io spero di sì, cioè se raccontassi esclusivamente i cazzi miei penso la cosa sarebbe ancora più triste. Io uso me stesso come un pupazzo, come un cartone animato per fargli raccontare la roba. E volevo chiedere ai tuoi amici esodali come ci si sente a essere coinvolti nei cazzi proprio di GP che però poi diventano anche qualcosa che fa piangere, che fa ridere, che viene molto apprezzato. È una truffa Gianni, è una truffa, continua veramente ragazzi, Gianni è una truffa, nel senso come abbiamo detto già in altre circostanze, questo film è statisticamente quel lavoro su 150 che abbiamo iniziato con Gianni e che è andato in porto, cioè per questo c'erano altri 150 falliti e che ci hanno impiegato molto più tempo di quello che abbiamo impiegato in questo film. Però in realtà Gianni, come si vede nel film e come lui continua a dire, è un nostro caro amico. Esatto, come lui continua a dire, è un nostro caro amico. Noi in realtà, a dire di tutto, gli scherzi è stato semplicemente divertimento per noi. Buona parte delle idee del film, cioè non buona parte, una parte delle idee del film sono venute in corso d'opera, eravamo già sul set a fare pausa pranzo ed è saltata fuori la canzone Mi faccia di merda. No, in realtà come ho detto già oggi, la musica, posso dirlo? La verità, ok. Allora in realtà la musica è stata composta da Gianni e Davide che sono due bravissimi musicisti, no no Gianni, Gianni è la nuova hit dell'autunno. Esatto, invece il testo l'ho scritto io con Ermalmeta. Esatto. Allora a questo punto devi rispondere come responsabile del compositore della musica, no sono molto felice di aver fatto questa hit mondiale, no lavorare con Gianni è una truffa come dice Gero, ma io sono la parte sensibile, per me è comunque una cosa che mi rende felice perché stimo la persona e tutte le idee che gli vengono, poi siamo concittadini per cui se si butta uno mi butta anch'io, insomma, diciamo scherzo. Domande? Eccola. Ah, perfetto. Ok, eccola. Qualcuno le porti il microfono in seconda fila. Eccolo, arriva. No, io volevo sapere quando uscirà quindi nella sale la vita di Adelo. Allora passiamo la parola a Domenico Procacci, produttore e direttore di Fandango. Che non lo sa quando uscirà questo film nelle sale, però contiamo di portarlo a Lucca, forse di fare una proiezione lì o comunque intorno a quelle date, parliamo dell'inizio di novembre, con l'idea di uscire a seguire. Al momento l'idea è questa. Lucca, scusatemi, Lucca Comis. Ma voi avete glissato perché la domanda era sulla vita di Adelo. Ah, scusa, 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 scusa. Vedi, vedi che non è una cigana. Quindi, insomma, invece il ragazzo più felice dopo Lucca l'idea è quella. Sì, questa è l'idea. Ok. Altre domande? Per ora no? Allora vado avanti io. Il film parla anche del rapporto con la fama e parla anche, come dire, del contrasto continuo tra il voler essere, diciamo, popolari, quantomeno il voler sfruttare le possibilità di essere un personaggio in vista per poter dire l'Europa e anche però, come dire, il diritto alla riservatezza, all'escludersi dal mondo. Per me parla della fragilità e in questo caso, nel caso della storia, la fragilità è quella di un fumettista leggerissimamente conosciuto per il suo mestiere. Ma io non credo, parla di vanità, narcisismo e fragilità. Chiunque faccia un mestiere che prevede l'esposizione al pubblico solitamente lo fa per ragioni abbastanza oscure. So che alcuni mestieri, come l'attore o il cantante, sembrano magari da chi non li fa delle cose quasi da sogno a volte, ma io penso che chiunque faccia questo mestiere lo fa perché spesso ha da riempire dei buchi i suoi affettivi interni. Nel mio caso almeno è così, non vorrei insomma. E quindi quando tu fai questo lavoro per avere l'amore degli altri, che però è l'amore degli sconosciuti, cioè avere l'amore dei propri amici, della propria famiglia, desiderarlo è normale, desiderare l'amore da parte di persone che non conosci non è una cosa buona. Ma chi fa i mestieri che prevede un'esposizione al pubblico è questo che chiede, di essere amato da persone che non conosce. E questa cosa qui è pericolosa, secondo il mio punto di vista, perché intanto è una cosa che non ti riempie mai, perché l'amore degli sconosciuti non ha calore alla fine. E quindi per me parla anche di quello, il fatto che uno sia così fragile, io davvero, c'è la cosa del nano bagonghi, lì l'ho amplificata eccetera, ma sai quante volte mi è successo di gente che mi offende pesantemente? E questo può succedere ad esempio all'uscita di un nuovo libro a fumetti, io ricevo 100 mail in cui 99 mi dicono che il libro è stupendo, che sono un genio, chiaramente esagerando, e poi c'è la centesima che mi dice guarda io non l'ho letto il libro, ma sicuramente è una merda, e io muoio. Cioè per me le altre 99 scompaiono e resta solo quella ed è il verbo. Però è chiaro che questo è un difetto della personalità, solo che lo riscontro spesso in tanti che fanno questo mestiere, cioè questi mestieri. Per me parla di quella roba lì. E sul fatto del narcisismo io mi metto davanti alla macchina appresa eccetera, poi come sa la mia montatrice, in montaggio vorrei poi tagliare tutte le inquadrature dove ci sono io perché ci voglio stare, ma poi quando mi vedo mi faccio vomitare, però poi ci rivolgo andare e mi rifaccio ancora, è tutta una battaglia di questo tipo. Però non credo che la questione del narcisismo sia relativa soltanto a chi fa un mestiere simile al mio, penso che sia molto diffusa da oggi, penso che sia una roba che prova chiunque faccia uno scatto di una propria colazione e la mette su Facebook, sperando che degli sconosciuti dicano wow che bella colazione. E se ci pensi questo è strano. Però ripeto, io penso che il narcisismo non sia così drammatico quando sei cosciente di averlo dentro di te e lo controlli. Non so perché ho parlato di sta roba. Mani alzate, non mi pare. Allora proseguo, c'è un personaggio come dire nascosto nel film che è una presenza, si capisce che è una presenza importante, però è un personaggio, è un convitato di pietra per dirlo con Mozart, ovvero tua moglie, la donna della tua vita. Volevo sapere appunto come, sono dei momenti estremamente toccanti, pur se tutti in assenza, quindi volevo sapere come, proprio da, come hai detto tu, narcisista prima, come lavori per cercare il giusto pudore nel raccontare davvero i tuoi sentimenti intimi? Intanto anche i narcisisti si innamorano perdutamente. Cioè ci devono lavorare per riuscirci, però quando ci riescono diventano quasi come le altre persone. Tutte le immagini di Chiara in macchina o lei al telefono, eccetera, sono tutta roba che io ho girato tre anni prima di fare questo lavoro. In realtà avevo una nuova telecamera e le rompevo il cazzo in continuazione a filmarla, lei non vuole mai essere filmata, infatti ora è laggiù nascosta. E io invece adorandola provavo piacere a inquadrarla. E poi a sua insaputa a un certo punto io ho proprio cambiato la storia, ho messo una voice over che parlava a lei, perché mi mancava una roba più intima nella storia. E quindi ho ricercato i vecchi filmati, li ho presi, li ho montati, tutte quelle parti di quando lei all'inizio fa questa faccia di, quando io le dico ti amo tanto, eccetera, eccetera, che è brutta come frase, non è proprio romanticissima, e lei fa un'espressione di fastidio. Quell'espressione lì era reale, perché io la stavo filmando mentre andavamo a cena fuori e lei si era veramente rotta ai coglioni. Poi l'ho implorata a un certo punto di fare la scena con me nel ristorante, mi piacerebbe lo raccontasse lei ma non lo farà mai. E lei ha accettato, anche se è stata, ha avuto un po' di, come dire, ha fatto molta opposizione, però secondo me lei era perfetta per quella scena. E basta, è così, cioè, ho, io quando racconto le storie purtroppo, come racconto anche nel film, non mi chiedo un granché se quello che sto facendo fa del bene o del male a qualcuno. A volte sì, a volte quando ho raccontato nei libri a fumetti cose molto personali, magari riguardanti la mia famiglia o mia madre o mia sorella, cose anche molto brutte avvenute nella mia famiglia, prima della pubblicazione le ho fatte vedere, le ho detto posso pubblicare questo, però sostanzialmente me ne frego completamente, perché penso che tutto quanto viene raccontato, anche l'evento più drammatico, una volta che entra in una storia diventa santo. Io adesso volevo invece chiedere ai tre protagonisti del film oltre te, vedendo il film si ha come quella sensazione di un, come dire, di avere a che fare con un gran falsario d'autore, ovvero mentre vedi il film non sai mai se quello che stai vedendo è vero o è falso, ma questo vale anche per, appunto, per le tue opere a fumetti o anche per il tuo film precedente. Allora mi chiedo, chiedo a voi quanto è vero, quanto è falso, cosa è vero, cosa è falso se volete dirlo, perché magari il falsario non vuole raccontare la verità e quindi come dire, qual è anche il gioco che fate con lui tra realtà e finzione? Ok, va bene, c'è tanta verità, diciamo, per esempio la scena a Saturnia è sicuramente poi diventato un momento per noi, perché dopo il bagno l'ha fatto anche lui e quindi è diventato veramente un momento di vicinanza, di amicizia, per cui quella roba lì anche penso che dall'immagine si capisca, comunque siamo lì a divertirsi dell'acqua e comunque e comunque, appunto, come dicevo prima, la nostra amicizia è vera e niente, poi per me di falso, cioè ci sono alcune scelte narrative che sono forzate dalla storia, cioè dalla storia appunto che è nata, però di falso mi sembra abbastanza onesta la cosa, sono emozionato, scusate, non capita tutti i giorni di avere i fari. Beh, c'è di falso che in realtà Davide è innamorato di me e non il contrario, quindi questa è la prima cosa. No, a parte questo siamo amici anche nella vita reale, cioè io ricordo una mattina ho ricevuto la chiamata di Gianni che mi ha detto ti va di partecipare al film e gli ho detto subito sì. Poi per quanto riguarda il mio personaggio penso che lui abbia visto magari in me qualcosa che io non conoscevo oppure che non vedevo, infatti personalmente sono abbastanza diverso da Francesco, almeno credo di esserlo, un po' sì, però recitando ho proprio scoperto qualcosa che in realtà mi apparteneva, questa magari sensibilità o delicatezza che in genere non mostro anche a loro. E niente, solo questo. Grazie a tutti. Dunque, il mio personaggio è un po' il cattivo della squadra, ma è secondo me una cattiveria che non è data da Mavagitavera, quanto è una sorta di diffidenza verso le cose belle. Lui ha un po' paura delle cose belle perché ha paura che siano tutte alle truffe, di venire fregato e quindi è un po' come un chihuahua che per difesa abbaua e abbaia. Un chihuahua molto sexy che per difesa abbaia. Un chihuahua che per difesa abbaua è stupendo. Facciamo un altro pezzo, cazzo. Ma quindi la storia del fan è vera? Tutto quello che si vede lì è vero, le lettere sono quelle reali. Io avevo molta paura quando sono arrivato qui perché pensavo che lui sarebbe venuto e mi avrebbe ucciso tipo John Lennon però di serie Z. Invece pioveva per fortuna. Mi sarebbe dispiaciuto per te, però per il bene sarebbe solo bene. Se moriva Francesco, lui lavora con me sui fumetti, lui è il mio soldato, lui era pronto a dare la sua vita per me. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa altrimenti io procederei con un'ultima domanda. Ah perfetto, benissimo. Sì, dato che oggi parlavo proprio di questo, tu parlavi prima della fragilità di chi o fa l'attore o il regista o eccetera eccetera. Io pensavo però che in questo film parli anche della fragilità del fan in realtà, ma al di là del fatto che la grafologa ti banda dicendo è una persona disturbata. Io guardavo in questi giorni quelli che aspettano, che sfilino gli attori, che stanno ore prima sotto il sole, giocano a casa, così per veder passare. Io faccio un po' fatica a capire, però pensavo che erano fragili. Sì, anch'io ci ho fatto caso a questa cosa delle persone che si mettono dalle 9 la mattina aspettando 12 ore che passi il loro idolo e ho detto no, ma perché fate la roba del genere? In realtà poi mi sono accorto che lo pensavo solo perché non aspettavano me. Credo che se fossero stati lì per me io avrei detto ma guarda che carini. No, però in realtà sì, la fragilità del fan c'è sicuro, cioè è stato proprio, noi abbiamo iniziato la storia che io davvero ero convinto di andare a casa sua, cioè quello che io racconto la megaproduzione che lo dico tre volte, quattro volte, proprio anche noioso nel film, che lo ripeto, era perché io ero proprio convinto, io sono andato da domenico all'inizio quando parlavo di fare un documentario su questo e quando l'ho raccontata la storia finiva così, finiva con noi che andavamo a suonare il campanello e con tutti i fumettisti e gli facevamo passare una giornata stupenda eccetera eccetera e a un certo punto però ho capito che io seguivo solo il mio desiderio senza pensare a quali implicazioni poteva avere. Io cerco di essere una buona persona e secondo me di questi tempi in Italia sarebbe bene che tutti si sforzassero di essere un po' di più e penso che la differenza tra una buona persona e quella che lo è un po' meno è che una persona buona mette i propri desideri quando serve in secondo piano rispetto agli effetti che questi desideri possono avere. Tutto lì. Qualcun altro dal pubblico vuole chiedere qualcosa? Ok allora io fare l'ultima domanda a Domenico Procacci che non solo è attore nel film ma è il produttore volevo chiedere... Non scherziamo con le parole, moderiamo i termini, no scusa dimmi. Vedendo il film si ha l'impressione che il film sia veramente un oggetto sfuggente, alieno, qualcosa che sia difficile da controllare quindi com'è per un produttore lavorare su qualcosa di questo tipo, su qualcosa che può veramente diventare qualcos'altro da un minuto all'altro? Vabbè, con Gianni c'è una storia, noi ci siamo conosciuti sul fumetto, io faccio parte della Coconino Press che è la casa editrice che pubblica i lavori di Gianni, da lì è iniziato un rapporto, abbiamo fatto insieme l'ultimo terrestre che era qui a Venezia un po' di anni fa e poi ci sono stati anche degli altri film che poi non sono arrivati al pubblico perché come anche qui nel film si racconta non c'erano liberatori, c'era gente che veniva più o meno insultata, insomma c'erano problemi. In questo percorso io finora l'ho seguito e fino a che potrò e lui avrà voglia continuerò a seguirlo perché è il suo percorso ed è il percorso di un artista vero e quindi un artista vero mostrare ad ascoltare, a volte dici delle cose che pensi che siano completamente fuori di testa, altre volte ti sembra invece siano delle idee fantastiche ma fondamentalmente devi aver fiducia in lui e quindi devi seguirlo, che è quello che io negli anni credo Gianni di aver fatto e spero di poter continuare a fare. In questo caso, poi periodicamente con Gianni ci vediamo, lui mi racconta delle storie, poi alcune le porta avanti, altre le lascia cadere, qui sì è vero, mi aveva raccontato del documentario, però poi a un certo punto è venuto da me e mi ha detto, film piccolissimo, parto io con una società piccola mia, poi magari entri dentro te dopo se vuoi, se ti va, va bene Gianni, ti chiedo solo una cosa, avrei una scena da girare nel tuo ufficio, posso usare il tuo ufficio? Sì, va bene, ok grazie, ti dispiace se ci sei tu quel giorno, perché devo fare una roba che è importante, parlo io, però se ci sei è meglio, va bene, così io sono stato coinvolto nel film, poi adesso te mi dici pure attore, però ecco, ma questo il modo in cui viene coinvolto non è tanto importante, l'importante è secondo me condividere un'idea, un'idea di creatività, un'idea di storia e poi accompagnare quando è possibile chi pensi che ben di essere accompagnato, in questo caso secondo me Gianni merita assolutamente di essere seguito nel suo percorso. Se non ci sono altre domande io vi lascerei alla pioggia, spero che voi abbiate l'ombrello, io ringrazio, faccio i complimenti e saluto nell'ordine Gero Arnone, Davide Barbafiera, Francesco Daniele, Domenico Procacci ovviamente, Gipi, Gian Alfonso Pacinotti. Grazie a tutti, buona serata.